Il signor Saval, che anante chiamavano il vecchio Saval, s'ha alzato da poco. Piove. È una malinconica giornata autunnale. Cadono le foglie. Cadono lentamente sotto la pioggia, come una seconda pioggia più densa e più lenta. Il signor Saval è di cattivo umore. Va dal caminetto alla finestra, e dalla finestra al caminetto. Capitano nella vita giornate tetre, ma per lui vi saranno solo giornate tetre, dato che ha sessantadue anni. È solo, celibe, senza legami. Com'è triste morire così, solo, senza un affetto sincero. Ripensa alla sua vita, così nuda, così vuota. Ricorda nel lontano passato, nel passato dell'infanzia alla sua casa, quella con i genitori, poi il collegio, le vacanze, gli studi di giurisprudenza a Parigi, e poi la malattia del padre e la morte di lui. È tornato ad abitare con la madre. Sono vissuti insieme, il giovanotto e la vecchia signora, tranquillamente, senza desiderare altro. Anche lei è morta. Quanto è triste la vita. È rimasto solo. Fra poco toccherà a lui. Se ne andrà e tutto sarà finito. Non ci sarà più al mondo il signor Paul Saval. Di cosa terribile. Altri vivranno, ameranno, rideranno. Sì, la gente si divertirà. E lui non ci sarà più. Non è strano che si possa ridere, divertirsi, essere allegri con la continua certezza della morte. Se perlomeno questa morte non fosse così ineluttabile. Si potrebbe ancora nutrire qualche speranza. Invece no. La morte è inevitabile. Quanto la notte dopo il giorno. Se almeno avesse avuto una vita piena. Se avesse fatto qualche cosa. Se avesse avuto storie d'amore, grandi piaceri, successi, soddisfazioni di un qualsiasi genere. No. Nulla. Non aveva fatto nulla. Proprio nulla. Tranne che levarsi dal letto, mangiare sempre alla solita ora e tornare a letto. Così era arrivato a sessantadue anni. Non sarà neanche sposato come altri. Perché? Già. Perché non aveva preso moglie? Avrebbe potuto farlo. Possedeva un discreto patrimonio. Forse non gli si erano presentate le occasioni? Forse. Ma le occasioni si provocano. Era indolente. Ecco che cos'era. Il suo torto maggiore era stato l'indolenza. Il suo difetto fondamentale. Il suo vizio segreto. Quanta gente butta via la vita per indolenza. Per certe persone è così difficile alzarsi, darsi da fare, muoversi, parlare, affrontare i problemi. Non era nemmeno stato amato. Nessuna donna sarà mai abbandonata sul suo petto nel completo abbandono amoroso. Non conosceva le angosce deliziose dell'attesa, il fremito straordinario di una mano appena sfiorata, l'estasi di una passione che trionfa. Quale felicità straordinaria deve riempire il cuore? La prima volta che le labbra si incontrano, quando la stretta di quattro brazza forma un essere solo, da due creature pazze l'una dell'altra. Un essere felice in modo indicibile. Il signor Saval sera seduto in vestaglia con i piedi rivolti verso il fuoco. Sì, la sua vita era stata un fallimento. Un fallimento completo. Eppure aveva amato anche lui. Amato in modo segreto, doloroso e con l'indolenza che contraddistingueva ogni sua azione. Aveva amato un'amica di sempre, la signora Sanders. Eh, se l'avesse conosciuta da signorina. Ma l'aveva conosciuta troppo tardi, quando era già sposata. Lei, sì, lei l'avrebbe domandata in moglie. Fin dal primo giorno, sempre, quanto bene le aveva voluto. Ricordava la sua commozione ogni volta che la vedeva, la tristezza ad ogni allontanamento, le notti in bianco pensando a lei. Eppure la mattina si svegliava sempre un po' meno innamorato della sera precedente. Perché? Quanta era bella da giovane, aggraziata, bionda, ricciolina, gaia. Sanders non era l'uomo adatto a lei. Adesso lei aveva 58 anni. pareva felice. Eh, se gli avesse voluto bene allora. Se l'avesse amato. E per qual motivo non avrebbe dovuto amarlo se lui, Saval, amava lei, la signora Sanders? Se perlomeno avesse vagamente intuito qualche cosa. Possibile che non si fosse mai avveduta di nulla, che non avesse veduto nulla, non avesse intuito nulla. Che ne avrebbe pensato? Se lui avesse parlato, lei che cosa gli avrebbe risposto? Saval si poneva mille altre domande. Scorreva a ritroso la sua vita nel tentativo di recuperare una moltitudine di particolari. Ricordava le serate trascorse giocando a carte in casa Sanders, quando lei era giovane e tanto bella. Ricordava certe frasi che gli aveva detto, il tono della voce, certi sorrisi lievi e silenziosi che esprimevano tanti pensieri. Ricordava le loro passeggiate in tre lungo la Senna, le colazioni sull'erba alla domenica, poiché Sanders era impiegato alla vice prefettura. Ecco che d'improvviso gli balzò in mente il ricordo nitido di un pomeriggio, passato con lei in un boschetto lungo il fiume. Erano partiti la mattina recando i cestini delle provviste. Era una bella giornata primaverile, una giornata radiosa in cui ogni cosa ha un profumo ed una felicità. Gli uccellini cinguettavano allegramente, battevano svelti le ali. Avevano mangiato sull'erba, all'ombra dei salici presso l'acqua, resa stagnante dal sole. L'aria era tiepida, piena di mille profumi. La respiravano con delizia. Come si stava bene quel giorno. Sanders si era addormentato subito dopo aver mangiato. Quando si svegliò disse «La più bella dormita della mia vita». La signora Sanders aveva preso Savalla a braccetto e si erano avviati entrambi lungo la riva. Lei gli si appoggiava addosso. Rideva mentre diceva «Sono sbronza, caro amico, completamente ebbra». Lui la guardava fremendo. Sentiva ad essere impallidito per il timore che i suoi sguardi si facessero troppo arditi e che un tremito della mano svelasse la sua passione segreta. Lei si era preparata una coroncina con delle lunghe erbe e con dei cigli d'acqua. Lo sogguardava chiedendogli «Vi piaccio così?». Egli non aveva risposto. Non sapeva cosa dire. Avrebbe preferito inginocchiarsi davanti a lei. Delusa lei allora si era messa a ridere dicendogli in faccia «Stupidone, dite qualche cosa almeno». E ricordò come in quel momento gli si appoggiasse con tenerezza. Passando sotto un salice aveva sentito sulla guancia l'orecchio di lei. Si era ritratto di colpo, nel timore che la potesse pensare qualcosa di male. Quando aveva detto «Non sarebbe ora di tornare?», lei lo aveva guardato in modo strano. «Sì, proprio uno sguardo strano». Lì per lì non ci aveva fatto troppo caso, ma adesso se ne ricordava bene. «Come volete, amico caro. Torniamo pure, se vi sentite stanco». E lui aveva risposto «Non è che mi senta stanco». Ma forse Sanders si è svegliato». Lei aveva alzato le spalle mentre rispondeva «Ah, se pensate che mio marito si sia svegliato, è un'altra cosa. Torniamo pura». Durante il giorno lei non gli aveva più parlato e non sarà più appoggiata al suo braccio. Perché? Non sarà mai posto quel perché. Ma adesso gli sembrava di intuire qualcosa che allora non aveva afferrato. Forse il signor Saval diventò rosso e salzò di scatto, sconvolto come se ringiovanito di trent'anni avesse sentito la signora Sanders dirgli «Vi voglio bene». Era dunque possibile. Era torturato da quel sospetto che gli era entrato nell'animo. Era possibile che non si fosse accorto di niente, che non avesse capito. Oh, se fosse stato vero, se fosse passato accanto alla felicità senza saperla cogliere. Pensò «Voglio sapere, non posso rimanere in questa incertezza. Voglio saperlo». Si vestì in fretta con quel che gli capitava. Pensava «Ho 62 anni, lei ne ha 58. Sono in condizione di potergelo chiedere». E uscì. La casa di Sanders era dall'altro lato della via, quasi davanti alla sua. Attraversò. La servetta venne ad aprire al primo colpo del battente. Rimase stupita di vederlo tanto di buon'ora. «Già qui, signor Saval, è successo qualche cosa?» Rispose «Niente, figliola, ma va a dire alla tua padrona che vorrai parlarle subito. La signora sta preparando la composta di pere per l'inverno. È in cucina vestita da casa. E tu, dille che si tratta di cosa importantissima». La servetta andò e Saval prese a misurare il salotto a grandi passi nervosi. Non si sentiva per niente imbarazzato. E l'avrebbe chiesto con lo stesso tono con il quale si domanda una ricetta. «Aveva 62 anni». Si aprì la porta e lei fece la sua apparizione. Era una donnona ampia e rotonda, con le guance gonfie e la risata squillante. Aveva le maniche rimboccate sulle braccia nude, impiastricciate di polpa zuccherina, e camminava perciò con le mani discoste dal corpo. Preoccupata domandò «Che vi succede, amico mio? State male?». Lui rispose «No, no, ma vorrei, amica mia, chiedervi una cosa per me importantissima che mi tormenta l'animo. Promettetemi che mi risponderete con sincerità». Lei sorrise «Sono sempre sincera, dite pure. Ecco, vi ho amata dal primo momento in cui vi ho veduta. Ve ne eravate accorta?». Lei rispose sempre ridendo, facendo eccheggiare nella voce il tono d'una volta. «Stupidone, me ne sono accorta subito!». Sabal cominciò a tremare. Balbettò «Lo sapevate? E allora?». «Tacque». Lei domandò «Allora cosa?». E lui continuò «Allora che pensavate? Che mi avreste risposto?». Lei rise più forte. Gocce di sciroppo le colavano dalla punta delle dita e scivolavano sul pavimento. «Io? Ma se non m'avete mai fatto capire niente! E che toccava a me fare la dichiarazione?». Lui fece un passo verso di lei. «E ditemi, ditemi, vi ricordate quella volta che Sanders si addormentò sull'erba appena mangiato? E noi siamo andati insieme in fondo fino alla curva?». Aspettava. La donna aveva smesso di ridere. Lo stava guardando negli occhi. «Certo che me ne ricordo». Lui seguitò con un brivido. «Quel giorno, se avessi osato!». «Chi avreste fatto?». Lei riprese a ridere, la donna felice che non ha rimpianti, e rispose con decisione. La sua voce limpida era appena velata dall'ironia. «Avrei ceduto, mio caro!». Gli volse le spalle e tornò alla sua marmellata di pere. Saval uscì di casa come se fosse reduce da una sciagura. Camminava a grandi passi sotto la pioggia, diritto in direzione del fiume, ma senza rendersi conto di dove stava andando. Quando fu sulla riva, voltò a destra e seguì la sponda. Camminò a lungo, pungolato dall'istinto. I suoi vestiti erano intrisi di pioggia. Il cappello si era sformato, molle come uno straccio, gocciolante come una grondaia, e seguitava a camminare. Si ritrovò nello stesso punto in cui si erano fermati a mangiare, in quella giornata lontana che lo torturava nel ricordo. Allora si sedette sotto gli alberi senza più foglie e pianse. Grazie a tutti. Grazie a tutti.